In Encanto presto la voce a Bruno. Bruno è un personaggio che è capace di prevedere il futuro. È uno di quei personaggi, di quelle persone che a tutti quanti sarà capitato di incontrare almeno una volta nella vita. Mirabel, le sorti della famiglia dipendono solamente da te. Encanto è una storia che mette al suo centro la famiglia, l'importanza della famiglia, sia per la società che per l'individuo. Per me la famiglia è una delle cose più importanti nella mia vita, se non forse la più importante. Penso che questo cartone sia così bello, così commovente, così pieno di cose che riempiono il nostro cuore proprio perché parla di una famiglia coesa, di una famiglia unita, che ritrova comunque una sua unità. Nella famiglia Madrigal ogni individuo, come spesso succede in tutte le famiglie, ha un ruolo preciso, specifico. Io nella mia famiglia, almeno quella d'origine, ero un po' il ribelle della situazione. Poi col tempo di famiglia ne ho fondata una mia e ancora sinceramente qual è il mio ruolo all'interno di questa mia nuova famiglia non l'ho ben capito. Col tempo ogni membro della famiglia ebbe in dono il suo talento magico. Nella famiglia Madrigal ogni bambino o bambina, quando compie cinque anni, riceve in dono una dote, un dono per l'appunto. Ecco, io penso che per fortuna, visto il lavoro che faccio, il mio dono almeno che ho ricevuto quando ho fatto cinque anni sia quello di raccontare le storie. Mi piacciono le storie, mi piace leggere, mi piace ascoltarle e soprattutto mi piace anche raccontarle. Perché io sono l'unica a non avere un talento? Tu sei speciale quanto chiunque altro in famiglia. Mirabel è l'unica componente della famiglia Madrigal a non aver ricevuto a cinque anni un dono, o almeno questo è quello che crede. E quindi si sente un po' incompresa. E questa è una cosa che a me piace moltissimo, perché non solo mi è capitato tante volte di non sentirmi compreso dalle persone che mi stavano vicino o dal mondo intero, ma la domanda è a chi non è mai successo. Ti ho portato lo speciale, visto che sei l'unica Madrigal senza un talento. Questo è il cesto speciale per chi è banale, visto che tu non hai un talento. Ehm, grazie. Dal 24 novembre al cinema e in canto. Non ve lo perdete. Una storia meravigliosa che vi scalderà il cuore e vi farà sorridere.